In questo numero, delegazione di medici cinesi in Toscana per fare formazione al personale sanitario sull'emergenza coronavirus. Epidemia di covid, il piano cross della regione per aumentare i posti di terapia intensiva e per le cure intermedie in tutto il territorio. Covid croda la mobilità, modifica treni e bus, i servizi di trasporto pubblico locale sono stati ridimensionati, regione al lavoro per il sostegno alle imprese e ai pendolari. Nel piano dell'emergenza covid è arrivata in Italia con destinazione toscana una delegazione formata da 14 operatori sanitari cinesi, medici e infermieri, provenienti dalla regione di Fuyan, che per 5 giorni hanno fatto formazione al nostro personale sanitario toscano sulla gestione dell'emergenza covid-19. Nelle immagini vedete il presidente della regione Enrico Rossi mentre accoglie la delegazione all'aeroporto di Malpensa che ha portato in dono anche prezioso materiale destinato alle terapie intensive e dispositivi di protezione individuale. 10 ventilatori invasivi, 20 ventilatori non invasivi, 20 monitor, 20.000 mascherine FFP2, 300.000 mascherine chirurgiche, 3.000 visiere, 3.000 tute di protezione. Con il presidente Rossi, l'ambasciatore della Cina in Italia Lin Junhua, il console generale della Cina a Firenze Wang Wangang, il consigliere scientifico dell'ambasciata cinese Sun Chenyong. Abbiamo bisogno di questi strumenti, di questo materiale e quindi io sono particolarmente grato al dono che ci viene fatto dalla Repubblica Popolare Cinese. Abbiamo bisogno di ventilatori, abbiamo bisogno di mascherine, di respiratori e questo materiale per noi è davvero importante. Il giorno successivo la delegazione è arrivata all'ospedale di Careggi accolta dall'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi con il console cinese a Firenze Wang Wangang. Anche l'assessore ha espresso grande apprezzamento per l'importante donazione. Il grazie è duplice, non solo nei confronti dei professionisti che oggi saranno collegati con i nostri professionisti e ai quali potranno raccontare la loro esperienza, le difficoltà, come hanno affrontato questa emergenza, ma il grazie è anche per averci portato così tanta strumentazione e di essere venuti quindi anche muniti di tutta una serie di dispositivi di cui noi oggi abbiamo assoluto necessità. Ciò dimostra la nostra stretta amicizia tra il popolo cinese e quello italiano, anche ciò dimostra l'assistenza reciproca di questi due paesi di fronte a questa situazione causata dalla diffusione del Covid-19. La delegazione ha poi dato il via all'attività di formazione confrontandosi in teleconferenza con tutto il personale sanitario delle aziende ospedaliere toscane. Dall'inizio dell'emergenza Covid, la Regione Toscana ha dato il via a un piano per incrementare il numero di posti di terapia intensiva su tutto il territorio. Attualmente sono 344, più altri 29 di terapia subintensiva. Il piano cross, la centrale operativa per le maxi emergenze, è stato approvato dalla Protezione Civile Nazionale e punta a realizzarne altri 280, prima di tutto sfruttando la possibilità di allestimento rapido nei nuovi ospedali di Lucca, Massacarrara, Pistoia e Prato. Perché hanno attrezzature anche a posti letto non di terapia intensiva che consentono una rapida riconversione a posti letto di terapia intensiva. Altri preziosi posti di terapia intensiva vengono ricavati in strutture di smesso parzialmente in uso. Nelle immagini vedete il Presidente della Regione Enrico Rosso in visita all'area del vecchio pronto soccorso dell'ospedale Santa Chiara di Pisa, dove sono stati allestiti dieci nuovi posti di terapia intensiva. Un lavoro che è stato fatto nell'arco di una decina di giorni e che mette relativamente in sicurezza, diciamo pure, mette in sicurezza la disponibilità di posti letto nell'area vasta nord-ovest che è stata la più colpita dai contagi in questo periodo. Noi diciamo che abbiamo a disposizione ancora 66 posti letto di terapia intensiva, a parte delle quali già ammestiti, per i quali abbiamo già i nuovi ventilatori e più altri 20 posti letto di terapia subintensiva. E quindi dovesse accadere anche un fenomeno analogo a quello che abbiamo avuto nei giorni passati di particolare pressione, con questi posti non siamo in grado senz'altro di farli fronte. Già allestiti anche 12 posti al vecchio ospedale Campo di Marte di Lucca, 6 all'ospedale delle Scotte di Siena e 15 all'ospedale di Careggi di Firenze. In queste immagini invece il presidente sta visitando una struttura per cure intermedie realizzata nell'antico ospedale del Ceppo di Pistoia. Se bisogna conservare l'ospedale come roccaforte, la battaglia si vince sul territorio e si vince sia mobilitando i medici di medicina generale. Io sono stato tutta la mattina a discutere una linea guida, un'ordinanza che consenta ai medici di potersi mobilitare, perché finora sostanzialmente non l'hanno potuto fare sia per l'assenza di dispositivi di protezione sia anche per l'assenza di una chiarezza generale su cosa e su come intervenire. E poi si fa questa battaglia e si vince costruendo anche sul territorio presidi, come lei ha detto, che non sono ospedale ma che consentono di garantire le cure appropriate a chi ne ha bisogno senza bisogno di finire subito in ospedale e quindi di conservare la risorsa ospedale per chi ne ha effettivamente bisogno. La Regione Toscana ha quindi creato un sistema per l'emergenza Covid graduato a seconda della gravità e dei bisogni dei pazienti. Il nostro obiettivo è creare un maggior numero di posti letto Covid che vanno però dalle cure intermedie, dagli alberghi sanitari fino ad arrivare appunto alle terapie intensive. ma proprio per graduare la presa in carico anche precoce del paziente Covid ed evitare laddove è possibile di farlo arrivare in terapia intensiva ma garantendo un percorso di presa in carico fino dall'inizio partendo dalla presa in carico domiciliare attraverso le USCA, queste nuove unità di continuità assistenziale che abbiamo creato con una delibera di qualche giorno fa e che cominciano ad entrare in funzione in questi giorni fino ad arrivare letto intermedi fino ad arrivare poi alla struttura ospedaliera e poi alle terapie intensive. In queste immagini il Presidente Rossi sta visitando a Montecatini anche uno dei primi alberghi sanitari realizzati in Toscana attraverso convenzioni stipulate fra le asle e gestori degli hotel chiusi per l'epidemia. In queste strutture è sempre presente personale sanitario e vengono ospitati pazienti Covid in via di guarigione ma ancora non negativizzati al tampone e personale sanitario che dopo i turni in ospedale non vuole rientrare a casa per non mettere a rischio la salute dei familiari. Le misure di contenimento dell'epidemia varate dal governo hanno ridotto al minimo gli spostamenti della popolazione e anche il servizio ferroviario e quello del trasporto pubblico locale sono stati ridimensionati riducendo di un terzo i treni per i pendolari e dimezzando gli autobus in circolazione. Tuttavia la Regione Toscana si è attivata per garantire i collegamenti essenziali a partire da quelle per le strutture ospedaliere con le case di riposo e gli snodi di interconnessione. Io invito i cittadini anche in questi giorni anche nei giorni futuri a farci le segnalazioni per cercare di apportare tutte le migliorie e tutti gli accorgimenti che ancora non dovessero essere attuati. In alcuni casi le corse dei bus sono state anche raddoppiate per garantire il rispetto della distanza interpersonale di un metro fra i viaggiatori. Nello stesso tempo la Regione sta lavorando per introdurre correttivi al decreto Cura Italia che vadano incontro alle esigenze delle aziende di trasporto a corto di liquidità e dei titolari di abbonamenti. Noi abbiamo chiesto l'istituzione di un fondo straordinario da 600 milioni valido ovviamente per tutto il Paese proprio per venire incontro a queste due esigenze. Da una parte quella di poter integrare gli ammortizzatori sociali per quanto riguarda i lavoratori del settore dall'altra quella di venire incontro alla mancanza di liquidità delle aziende e dall'altra l'idea è quella di posticipare la validità degli abbonamenti a quando questa crisi sarà finita. Noi speriamo che queste due richieste vengano accolte perché sono richieste essenziali per quanto riguarda la continuazione del trasporto pubblico locale seppur nei minimi termini attuali in attesa della ripresa. La popolazione sta comunque reagendo positivamente alle restrizioni riguardanti la mobilità. Le persone stanno però recependo questa impostazione potrei fare anche l'esempio del traffico delle nostre strade e dai nostri rilevatori sulla Fipili che è la strada più transitata della Toscana. Noi abbiamo visto un decremento nei giorni feriali del 70% nei giorni festivi e prefestivi del 90%. Direi che per ora questa è veramente la linea da tenere. Muoviamoci il meno possibile, facciamolo solo per esigenze essenziali perché con più saremo rigorosi ora e con prima potremo ripartire dopo. Grazie per la visione!